Siamo andati avanti, si è fatto questa cosa fantastica, che servirà e ci sta servendo tanto per portare avanti questa nostra avvertenza. La Stato Inglese è stata gentilissima e disponibilissima a fare questa cosa. È stato commovente vedere che oltre all'impegno di tutti quanti, il famoso analista e il posto economico, a tutti i vendi la nostra avvertenza è stata seguita e approcciata.